ciao eccoci su almifocus parliamo oggi del nuovo dosatore della lee il cosiddetto autodrum questo qui che vedete qui allora questa è davvero un'ottima soluzione diciamo al problema delle polveri un po più fini come la lovex che vedete qui che appunto a questa forma molto sferica diciamo veramente molto fino e che su dosatori come quelli classici l'autodisc o il pro autodisc a qualche difficoltà nel senso che le dosate sono sempre ovviamente perfette però diciamo ci ritroviamo spesso qui o in altri posti un sacco di granelli di polvere sprecati ma oltretutto anche pericolosi da avere in giro ecco che diciamo invece questa tipologia di dosatore risolve un po questa problematica tengo a precisare che qui lo vedete senza il bottone di sicura che appunto prevede diciamo gli impedisce una doppia dosata nel caso in cui andiamo su con il braccio ok fa una dosata se torniamo giù e non andiamo a premere disattivare il pulsante che sulle progressive può essere automatizzato con la catenella ok e va a impedire appunto un secondo ingaggio è sempre attivato dal dal bossolo quindi quando il bossolo entra all'interno va a ribaltare questo dramma ok che sono altro non anche questo componente qui scusa adesso un po il video sulla mano libera ok quindi la polvere qui all'interno viene per così dire rilasciata ok viene questo si gira e viene rilasciata all'interno della della stazione addetta appunto al all'inserimento della polvere e questi dramma sono molto comodi sono ovviamente regolabili ok abbiamo questa chiave qui che ci permette la regolazione che ci permette li fanno sia da pistola che da carabina quindi hanno diciamo due due tipologie diverse questo per esempio fa 5,7 grani di polvere gm3 quindi è molto comodo anche da andare a cambiare per esempio andare a sostituire la polvere il bicchierino qui ha l'on off quindi così possiamo andare a sollevarlo e eventualmente andare a riversare la polvere nel suo barattolo cosa che sull'autodisco invece un po più macchinosa e quindi questo è sicuramente molto comodo da utilizzare appunto questo sistema di drums di contenitori molto valido e le dosate sono davvero perfette inoltre elimina il problema con le polvere diciamo molto più fine di avere i vari residui intorno è veramente un ottimo acquisto secondo me viene già con due diciamo due dramma e si possono comprare delle stazioni che prevedono due tram da carabina e due dramma da pistola e il costo rapporto qualità prezzo diciamo il costo un po altino se parliamo attorno alla cinquantina di euro però sono comunque veramente soldi molto ben spesi inoltre grazie appunto a questa faccia qui possiamo andare ad appiccicare o a scrivere direttamente con una mattita la la dose la polvere che distribuisce il nostro dramma bene è tutto grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti